Nel 2016 Riva del Garda Fiere Congressi S.P.A. ha prodotto un fatturato di quasi 13.750.000 euro, in crescita dell'1,5% rispetto al 2015, incrementando del 15% il risultato operativo e del 26% il risultato ante imposte. Questo è quanto emerso nell'ultima assemblea dei soci, tenutasi al centro congressi di Riva del Garda questa settimana, i quali hanno approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. I risultati di bilancio sono l'espressione di quanto realizzato nel corso dell'anno e contemporaneamente il raccolto di quanto seminato con impegno e dedizione, ha commentato al termine dell'assemblea Roberto Pellegrini, Presidente di Riva del Garda Fiere Congressi S.P.A. La positività dell'operato di Riva del Garda Fiere Congressi è conseguenziale, oltre ad un consiglio di amministrazione che da sempre investe nello sviluppo tecnologico, nell'innovazione e nella ideazione di nuovi eventi, forte di poter contare su una struttura d'eccellenza che non teme la competitività del mercato. L'utile d'esercizio realizzato nel 2016 è di 503 mila euro, in aumento del 38% se confrontato con il risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. I buoni risultati ottenuti in termini di fatturato, uniti al contenimento di alcune significative voci di costo, hanno consentito alla società di organizzare i due nuovi eventi introdotti nel calendario fieristico del 2016, come Garda Wind Garda e Trentino Sport Days. È di oltre il 200% l'incremento registrato dalla società nel corso dell'ultimo quadriennio, sia per il risultato operativo sia per quello anteimposte. Per il terzo anno consecutivo l'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare una parte dell'utile realizzato, quale dividendo da assegnare agli azionisti. La continuità di questa scelta evidenzia ancora una volta come Riva del Garda e Fiere Congressi e SPA sia una società privata a partecipazione pubblica in grado di realizzare utili in un mercato difficile quale quello fieristico e congressuale in costante evoluzione.